Il problema è sempre a monte, nel senso che bisogna prevenirle queste cose. Siccome sono anni, anni, anni che abbiamo questo problema, non è stato mai risolto. Vuoi per l'autostrada, vuoi per la ferrovia. Noi qui siamo dimenticati completamente. Il maltempo che la settimana scorsa si è abbattuto sulla provincia di Pesare Urbino, creando numerosi disagi al sud del fiume Metauro, oltre al fangue e ai danni ingenti causati dall'acqua entrata in garage, abitazioni ed esercizi commerciali, ha lasciato alle sue spalle anche tanta rabbia. Quella dei residenti, stanchi di anni fatti di continui alluvioni e mancate risposte da parte degli organi di competenza. Qui a Ponte Sasso di Fano, il giorno dopo il nubifragio, la situazione era drammatica. Oggi, ad una settimana dalle forti piogge, un gruppo di residenti si è dato appuntamento in via Lago di Albano, nella zona detta dei Laghi, fortemente colpita dal maltempo, per chiedere a gran voce risposte e soluzioni per poter prevenire gli allagamenti e non trovarsi poi soli a dover far fronte a danni e disagi. Il problema nasce dall'autostrada, dal momento, cioè il problema qui è sempre esistito un pochino, che era un terreno acquitrino e compagnia. Però adesso, da quando hanno costruito la terza corsia, hanno convogliato molta tanta più acqua nei fossi piccoli. E così i fossi tracimano e l'acqua viene dove è più basso, però l'acqua va sempre verso il mare. Non abbiamo mai visto che dal mare l'acqua va verso il monte, non è mai successo. Purtroppo è così. Chi adesso si trova nel basso, se non trovano una soluzione di fare qualche scolmatoria o portare l'acqua nei punti più alti, nei fossi più grossi, avremo sempre questo problema. Da quando c'è stato l'intervento della terza corsia, ci avevano detto che non dovevamo preoccuparci perché il rio Crinaccio era stato adeguato alla situazione. Invece non è così, perché ogni volta andiamo a galla. Io direi che il sindaco deve coinvolgere Confanesi, deve coinvolgere Anas, che ogni volta va a galla, deve coinvolgere la Ferrovie, deve coinvolgere Aset, che non pulisce e non adegua l'impianto fognario. E tutta la situazione qui deve essere adeguata al problema. Ma noi qui nel quartiere, tutte le volte che piove, abbiamo il problema di buttare l'acqua sulla Nazionale. La Nazionale va a galla, ma se non c'è uno sfogo a mare, la ferrovia deve avere dei varchi dove l'acqua passa e va a finire nel mare. Non ci sono, non sono stati fatti. È necessario, perché altrimenti la Nazionale, che è un posto dove passano tutti, andrà a galla. I cittadini di questo quartiere avranno sempre questo problema. Non credo che si possa andare avanti per sempre così. Io abito sulla Nazionale e tutta l'acqua che veniva giù dalla parte verso monte è finita a casa mia. Io ho un fosso laterale al mio confine, praticamente sono metri e metri cubi di acqua che venivano giù dal mio passo carrabile e dal fosso. E le ho fatto vedere prima la foto di due sfoghi a mare che sono di 40 centimetri. E 40 centimetri, anzi 80 centimetri di tubi non possono compensare tutta l'acqua che veniva giù. Ci abbiamo sempre avuto il problema da anni, anni, anni con i fossi che non vengono mai puliti, mai. Di conseguenza cosa succede? Quella volta, una volta all'anno che puliscono i fossi, lasciano tutta l'erba che tagliano dentro. Dopodiché quando piove, che fortunatamente o fortunatamente passano qualche anno, però comunque sia, ci abbiamo sempre i danni comunque, non vengono mai puliti. Il progetto c'era, l'ingegnere e tutti, il progetto c'era da fare il vascone per tenere tutta quest'acqua di continenza e poi alzare il ponte dell'ANAS. Non è stato fatto, è rimasto un ponte piccolo, niente. Una roba vergognosa, proprio qui bisogna parlare con il sindaco, fare una riunione. Io penso sia ora di fare anche questo e che faccia le promesse che deve fare. Ecco, quindi mantenere le promesse, un incontro con il sindaco sarebbe una buona cosa? Sarebbe l'ideale, anche il centro sociale, fare un parlare di queste cose come messa a Ponte Sasso, perché qui non siamo messi bene per niente. I residenti ci hanno mostrato le condizioni in cui versano fossi e tombini, otturati da fango, sterpaglie e a volte a malapena visibili. Qui il fosso era pieno anche da prima, cioè pare che è anche piccolo, però è pieno, si riempie facile, qui c'è un fosso molto grande che viene giù e qui finisce qui, ecco. Poi va a destra e a sinistra, lo è pieno e l'acqua va tutta sopra e va tutta di là, il signore di là, infatti l'ha fatto un casino. Questo è un tubo di scarico, però dovete spiegarmi dove scarica l'acqua. È lì, si vede, chiarissimo. Questo dovrebbe portare l'acqua verso il mare, per me la porta qui e poi verso casa mia. Quando è tanta arriva casa mia e io nuoto dentro casa. Ora i residenti si trovano a fare i conti con i danni provocati dal maltempo, sia economici che strutturali e nonostante in mattinata Aset sia passata a sgomberare le strade, che fino a ieri erano veri e propri cimiteri di rifiuti, c'è ancora chi pulisce e sgombera i garage, abitazioni e negozi da ciò che l'acqua ha distrutto. Questa è la quinta volta che entra l'acqua nel nostro palazzo e puntualmente siamo sempre così. Noi abbiamo fatto richiesta anche al sindaco, al comune, di venire a vedere qualcosa, di poter risolvere il problema, che l'acqua arriva dall'autostrada. Non abbiamo mai visto nessuno e noi tutti gli anni che fa o un acquazzone o piove così, ci ritroviamo così tutto allagato. Io nel mio garage ho dovuto buttare via tutte le moto, la macchina e tutti i vari elettrodomestri. Non ho rimasto più niente. Adesso non so se il sindaco ci verrà a parlare, faremo una riunione, aspettiamo quello che lui ci vuole dire. Poi noi gli abbiamo mandato un'email, abbiamo telefonato più volte al comune di Fano, ma non ci hanno mai risposto in questi giorni. Questa mattina giustamente siete arrivati voi, è arrivato l'Asid a pulire tutto in modo che, come se non fosse successo niente, cosa che noi l'Asid che vengono a pulire non l'abbiamo mai visto, perché nei giorni scorsi è vero, ma oggi hanno proprio pulito, pulito, pulito. Chiedo solo delle risposte, se qualcuno ci venga incontro a fare, non so, rimborsi, non so quello che prevede la legge, però che il sindaco ci dia delle risposte. Io mi occupo di questo appartamento che viene affittato in periodi brevi o lunghi, è tutto da buttare ormai. Il signore dovrà accoppare tutto l'arredamento, sicuramente, tanto non si può affittare un appartamento in queste condizioni. Non sapremo chi pagherà, però qualcuno dovrà pagare, penso. Ora ci stiamo dando da fare, proviamo a ripulire tutto, ma ancora c'è fango che esce da tutte le parti. I danni sono ingenti, soccorsi, aiuti, non si è visto nessuno. Niente di niente, ci siamo adattati, abbiamo fatto il possibile e il prima possibile riapriamo, perché comunque chi mi rimborsa, boh. Quindi al momento siete ancora chiusi? Eh, non siamo del tutto operativi, siamo disponibili per chi ha bisogno di stivali per il fango, per quello sì. In un'abitazione nella zona dei laghi l'acqua ha addirittura sfondato un muro. Perché l'acqua è venuta giù proprio con fango, terra, tutto, che non riceveva da nessuna parte, fino ad arrivare a rompere il muro questo qui. Per fortuna, perché così l'acqua ha potuto defluire e logicamente ha anche aiutato agli altri vicini magari a avere meno problemi. Però quello che più problemi ha avuto in questo caso sono io. Di quanti danni si parla economicamente? Si tratta di migliaia di euro. Chiediamo che il comune faccia un sopralluogo di tutta la zona, di tutta la zona, e vada a vedere i fossi in che condizioni sono. Il padrone del fondo deve riaprire se è chiuso. E sanzionare, il comune può sanzionare se lui non lo fa. Non possiamo stare in queste condizioni, avendo il terrore che si rimetta a piovere. Perché in venti minuti è successo questo. In venti minuti da niente avevamo mezzo metro di acqua. Quindi fa paura, fra parentesi, fa paura questa cosa.